Good morning Juventus! Ebbene sì, è sabato, è sabato e vi ho fatto il good morning. Una sorpresa, un regalo, un regalo per tutti gli juventini che mi hanno apprezzato per il video che ho fatto ieri dedicato ai rigori a favore, dove abbiamo visto che la nostra Juventus è nelle ultime posizioni, quindi sfatando il mito che la Juventus ruba. Però molti anti-juventini sono venuti sotto e mi hanno detto, eh ma il tuo servizio non è completo, allora siccome ti stimo perché sei uno preciso, dovresti fare anche la classifica di chi ha subito meno rigori, cioè la squadra che praticamente gli hanno fischiato meno rigori contro. E vedrai che ci sarà la Juventus in quella che ha avuto meno rigori contro, perché a favore, ok, ci può stare che non ve ne è andati tanti, ma contro sicuramente non ve ne hanno fischiati tanto. Quindi chi è la squadra che ha avuto meno rigori contro? Sicuramente la Juventus. No, belli, 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 belli. No, belli, 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 belli. Al primo posto, con meno rigori fischiati contro, quindi è un vantaggio, collegate il cervello, perché alcuni non lo collegano. Chi ha avuto meno rigori contro è un vantaggio, se hai i rigori a favore è un vantaggio, se hai meno rigori contro è un vantaggio, giusto? So che magari la matematica non è per tutti, ma ragionate. La squadra che ha avuto meno rigori contro, quindi tra virgolette chiamiamoli torti, e la Juve? Loro, proprio loro, proprio loro, proprio loro. Il Napoli di De La Mentis negli ultimi sei anni, perché le statistiche purtroppo diventa complicato, ma comunque il trend è più o meno lo stesso, la squadra che ha avuto meno rigori contro è stato il Napoli. Gli hanno fischiato solo 22 rigori contro, solo 22 rigori contro. Bene, la seconda squadra che ha avuto meno rigori contro, dai, diciamolo subito, così tagliamo la testa al toro, c'è subito la Juve, non è stata proprio quella che ha avuto più benevolenza da parte degli arbitri, ma c'è la Juve. E invece no, e invece no, e ci sono ancora loro, proprio quelle che si lamentano di più degli arbitri sono quelli che hanno avuto meno rigori contro. Dopo il Napoli, che è quella che si lamenta più di tutti con gli arbitri, c'è l'Inter, 24 rigori, solo 24 rigori contro gli hanno fischiato all'Inter. Oh ragazzi, ma negli ultimi sei anni la Juventus ha vinto degli scudetti, eh? Ha vinto quattro scudetti, eh? La Juventus. E l'Inter ne ha vinto uno, e uno ne ha vinto il Milan. Com'è sta storia? Com'è sta storia? Boh, vedo, vabbè, non importa. Vabbè, adesso comunque, la terza squadra che ha avuto meno rigori contro sicuramente è la Juve. Su questo raggio. Adesso guardo perché c'ho tutto scritto qui, ma adesso guardo, mi metto gli occhiali bene e... No, non è la Juve. Non è la Juve. Non è la Juve. La terza squadra che ha avuto meno rigori contro è stato il Milan, che capeggia in tutte le classifiche questi qui, eh? Questi qui dovrebbero vincere 5.000 scudetti con tutti i favori arbitrali che hanno. 30 rigori contro negli ultimi sei anni al Milan. Vabbè, adesso basta, però. Perché adesso, Max, ci stai prendendo in giro. Non è possibile che la Juventus non sia neanche nelle prime quattro o nelle prime cinque. È impossibile. Adesso sicuramente la quarta squadra che ha avuto meno rigori contro è sicuramente la Juventus. Perché dai, 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 dai. L'aiutano la Juve. No, l'aiutano, no? Eh? Coglioni anti-juventini. Coglioni. Andatevi a nascondere. La quarta squadra che ha avuto meno rigori contro è la Roma, con 34. Pensa a te. Pensa a te, 34. Pensa. La Roma. Vabbè. Adesso c'è il quinto posto, quindi diciamolo subito, ci sarà la Juve. Sicuramente ci sarà la Juve che ha avuto meno rigori contro. Però già al quinto posto, cioè, è poca roba perché per dire che la Juve ruba sarebbe dovuta essere al primo o al secondo posto di non aver avuto rigori contro. E invece no, non è neanche nelle prime quattro, santo cielo. Non è neanche quinta. Non è neanche quinta. C'è la Fiorentina che ha avuto 37 rigori contro. Pensate, la Fiorentina ha avuto meno rigori contro della Juventus perché rimangono fuori due squadre delle grandi. Io ho messo le grandi. Rimangono fuori solo due squadre. Non ho messo l'Atalanta perché sinceramente l'Atalanta è tre anni che è tra le grandi, quindi non mi sembrava il caso. Signori, signori, la Fiorentina ha avuto meno rigori contro della Juve. E ha un'altra piazza di quelle che ci odia, che dice che rubiamo. Complimenti. Voglio fare i complimenti visto che poi è ufficiale al sesto posto come rigori contro c'è la Juve. Ne ha avuti 38. Pensate, la Juventus ha avuto 16 rigori contro in più del Napoli e 14 rigori in più contro rispetto all'Inter. Sapete che rigori contro, 99 su 100, un gol preso. Quindi una vittoria che si è trasformata in un pareggio o un pareggio che si è trasformato in una sconfitta. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ultima, che questo è clamoroso il dato perché era al secondo posto nei rigori a favore, la Lazio. Qua è prima nei rigori contro. Quindi diciamo che la Lazio si compensano un po' i due dati, vedendo anche l'altra struttura. Ora, la Juventus è sesta come rigori contro, quindi non è assolutamente la favorita. È la sesta favorita tra le grandi, su sette grandi. Un po' pochino, un po' pochino come favoritismo. Quindi non è favorita perché gli fischiano i rigori. Molti più del Napoli e molti più dell'Inter contro. Non gli fischiano i rigori a favore, perché abbiamo visto ieri la classifica che ce l'ho qua sotto il naso, la Juventus era settima addirittura. La Juventus è proprio ai margini delle ruberie. Allora molti verranno adesso, non gli va bene i rigori a favore, non gli va bene i rigori contro, verranno a dirmi Max, scusa, scusa, non è per essere pignolo, ma e le ammunizioni e tutte queste cose qua sono tutte stronzate. Perché se io mi metto a fare anche gli errori del VAR, io vi assicuro che la Juventus è prima negli errori contro la Juve. Quindi è inutile, è inutile che voi vi riempiate la bocca, cari anti-juventini, di stronzate sesqui pedali, come direbbe il mio amico Ezio Maletto, dicendo che la Juve ruba, la Juve qui, la Juve là. Voi non sapete accettare che la Juve vince perché è più forte, perché quest'anno che la Juventus non era forte, l'anno scorso che la Juventus non era forte, e ha avuto anche come tutti i campionati di rigori contro, rigori a favore, meno, abbiamo visto meno in entrambi i casi, la Juventus non ha vinto lo Scudetto. Non l'ha vinto, non l'ha vinto. Due anni fa l'ha vinto l'Inter e l'anno scorso l'ha vinto il Milan e quest'anno probabilmente lo vincerà al Napoli. Quindi sono tutte stronzate, lo dico proprio in italiano formito, stronzate sono queste qui, che la Juve ruba, va bene? Perché ci sono episodi eclatanti, no? Montari, turone, pianici, le munizioni. Pensate cosa le attaccate. Una stagione fatta di 38 partite dove ci sono sudore e sangue, allenamenti, impegni, trasferte e cose, voi le riducete tutte a due stronzate di errori, clamorosi, non lo nego, perché quello di Montari è clamoroso, ma io al col di turone ero allo stadio, ero a Torino, non se ne è accorto nessuno allo stadio. C'è pensato Sassi a taroccare, Carlo Sassi, a taroccare la domenica sportiva, salvo poi anni dopo dire che era stata taroccata la cosa a favore della Roma, perché Saxarubra è a Roma, erano tutti tifosi della Roma. Quindi inutile che ci giriamo intorno alla frittata, come si dice. Signori belli, rassegnatevi, quando la Juve vince è perché è la più forte, quando la Juve, come negli ultimi due anni e mezzo, non è la più forte, non vince, o meglio, forse sarebbe la più forte, ma è allenata male, perché è allenata male, perché di fatto si sa è allenata male, è anche molto infortuni e quindi mi dispiace per voi. Il vostro teorema della Juventus che ruba, avete visto, no? Rubentus capitolo 2, perché oggi è Rubentus capitolo 2, no? Giustamente, decade in maniera misera. Signori belli, rassegnatevi, pregate il Signore che la Juventus non torni a giocare e a vincere, perché se no ve ne state come negli ultimi nove anni passati, sotto, eh? Sotto, sotto il livello del mare, a ingurgitare acqua e affogate nel vostro dolore. Good morning, Juventus.